Musica Tutto pronto per la settima edizione di Pescaiola da Vivere, la tradizionale festa d'inizio estate organizzata dai commercianti dello storico Rione Aretino ad animare le piazze e le strade del quartiere il prossimo 9 giugno dalle 17 all'una di notte, musica, balli, giochi ed una zona salute e benessere allestita su 600 metri quadrati di Prato Verde. Dalle ore 17 spettacoli, eventi, balli ma soprattutto i negozi aperti quindi lo shopping fino a tarda notte, il meglio della produzione gastronomica del nostro territorio ma soprattutto anche grandi eventi e spettacoli lungo tutto l'asse di via Alessandro Dalborro, via Benedetto Croce, insomma una pescaiola tutta da vivere per un altro grande evento targato ConfCommercio. Anche un pullman da Modena Sì, la grande sorpresa che poi ci ha onorato e ci ha fatto grande piacere è la comunicazione dell'arrivo di un tour operator dall'Emilia Romagna, da Modena in particolare un pullman di turisti, di visitatori che hanno appunto assunto l'eco della notizia di Pescaiola e saranno presenti proprio in strada a festeggiare insieme a noi a festeggiare con le attività commerciali di ConfCommercio e per noi è un grande onore la dimostrazione che le cose programmate e soprattutto una programmazione, una comunicazione costante e continua porta ai risultati sperati. Torna anche quest'anno il premio Il quartiere del commercio alle attività storiche. Per la prima volta sarà premiato anche il negozio più giovane. I negozi di vicinato, ricordo ancora la nostra campagna We Love Shopping sotto casa, sono l'ultimo presiedio sociale di una società un po' di numeri e di computer quindi cerchiamo di valorizzare questi negozi di vicinato, non li abbandoniamo perché sono la luce, la pulizia, la sicurezza delle nostre città.